ah mi chiede tutta il mondo che fa un mondo o mondo o mondo ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di fabio i suoi attrezzi un nome una garanzia e ragazzi argomento del giorno qui con me molti molti sicuramente lo conosceranno altri no dalle mie parti questo signore un certo tommaso zumo detto massino zumo e praticamente rappresenta l'effigie del folklore culturistico siciliano praticamente questo signore che fa va in giro per la nostra città palermo e le zone limitrofe anche oltre vedo e praticamente tutte le degustazioni dello street food palermitano e oltre masino è qua però non per parlare di mangiare per un'altra cosa tutti gli amici che ci conoscono e certamente e certamente saluta a gratis il masino qui un amico nostro ha una meravigliosa mg che motore a queste un 1.5 106 cavalli ha aspirato che provano perché se ne sono felicissimo la macchina è una macchina ma che non sono felice di più ha un piccolo problema che qualche problema manca qualche spinto in più ecco gli mancano spunto ma allora masino ci penso io mettiamo un bel pedal sprint e risolveremo tutti i problemi che ora comunque stiamo parlando troppo lo montiamo e vediamo il risultato ma scusa procediamo col nostro unboxing già parecchi di voi conosceranno bene il prodotto ma parecchi di voi probabilmente no quindi mi sembra corretto e doveroso nei vostri confronti aprire la confezione e vedere cosa c'è dentro ecco qua tenete in seria considerazione questo codice qua ok saranno tutti codici diversi ogni centralina pedal sprint avrà il suo codice apriamo ecco qua subito troveremo un foglio che richiama ad alcune attenzioni e la guida per poterlo installare ok questa è la centralina piccola fatta bene mi piace molto il design di questa centralina eccola qua questa versione di centralina è stata acquistata versione premium cioè in che cosa consiste la versione premium allora innanzitutto la garanzia non è di tre anni ma cinque anni e ha tutto abilitato come per esempio la gestione dello smartwatch da android the auto e potete anche vedere la velocità e l'accelerazione della macchina quindi lo 0 100 prima e dopo montarlo è facilissimo ma adesso una dimostrazione ve la darò ma realmente che fa questa centralina a che serve questa si monta già ne abbiamo parlato sul pedale dell'acceleratore praticamente va a bypassare i segnali che dal pedale dell'acceleratore arrivano alla centralina madre quindi in questo modo andiamo a mettere da parte i valori imposti dalla casa madre della vettura in merito al pedale dell'acceleratore e li va a variare secondo i nostri gusti e la cosa più importante è che non va assolutamente a variare la potenza del motore assolutamente rimane quella che libera semplicemente il motore da quel freno elettronico come detto prima in posto della casa madre e ricordatevi per fare funzionare questa signorina qui dovete andare sul play store e scaricare l'app altrimenti cammo fat nende chi è l'intruso qua come vedete insomma ti devi buttare sotto nella pedaliera e si deve montare in modo tale che non dia fastidio né ai pedali né ai piedi del conducente cucinuzzo sei bravissimo grazie ma cucinuzzo avanzo la ma bella mangiata come ecco bravo siamo in vettura abbiamo installato il pedal sprint e qui c'è il nostro carissimo amico ma esatto noi utilizzeremo il settaggio direttamente dal suo android e guardate che spettacolo è meraviglioso quindi adesso andiamo in giro metteremo i settaggi e vediamo le espressioni che farà il nostro amico masino masino un bacchiano a tutti amiche di tutto il mondo siamo per strada parecchio scorrevole traffico non ce n'è ed è attualmente spento vi ricordo che stiamo lavorando sul display del meraviglioso è bella è bella sta macchina mi piace tanto spettacolare spettacolare dovete guardare sempre la faccia di macchino adesso è spento vediamo cosa succede se io passo in comfort hai sentito qualcosa è sempre un'altra macchina ragazzi veramente cosa succede cosa succede se io non sto scherzando aspetta c'è sempre fa la prova dare un po di gas adesso siamo in sport una cosa già ma io guarda sento parecchio la spinta da qui comfort è già spettacolare una cosa un ho sentito la spinta però se tu fai una cosa guarda cammina tranquillo se io ora la spengo si è fermata non c'è paragone completamente quindi come lo metto sport va bene sport o comfort già comfort già la faccio una cosa adesso praticamente sarete voi stessi malgrado man mano andate camminando con la macchina e prendete confidenza con il per la sprint capirete voi stessi dimmi masino dimmi non guardo perché la guarda e la cintura sempre ho avuto una sensazione una come c'è 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 non lo so sempre che ho cambiato il motore la macchina senti questa spinta da dietro ma già ma che va bene che noi vogliamo sempre il massimo ma è una cosa veramente ma guardatelo in faccia che personaggio che personaggio quindi ti devo ascolto ti devo fare una domanda chiaro sincero il pedal sprint lo suggeriresti a qualche amico si 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 intanto lo devo consigliare ci sono amiche che hanno anche il mio nome fa il mio nome è certo assolutamente non è veramente lo consiglio a tutti stiamo andando a bolognetta ma sento il viaggio di nozze per provare la macchina siamo messi a che camminano a gratis a gratis io lui sta pagando la benzina facciamo una cosa qui c'è un po di salita lo hai tu in sport? si ok e già io lo sento quando si che esco è vero mi sento ammazzonato va bene state vedendo ma si no è soddisfatto soddisfatto penso proprio di sì tranquillamente una cosa veramente senti come tira che siamo qua in salita si 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 spettacolare guarda se ora lo spengo si abbassa il pedale il pedale si abbassa no la cosa no scontentissimo ti merito una cosa che in dialetto in dialetto dico avanza una vasata cioè sarebbe un bacio molto affettuosamente molto affettuosamente però guarda preferisco allora cosa sono amiche di tutto il mondo seguite anche qua su youtube vi ricordo ma se non assumo sti hit food di palermo a parte il personaggio eccezionale avrete modo di vedere le bellezze della città storiche alimentari le persone il miglior cibo di palermo faccio vedere anche della sicilia e a breve sono in giro per il mondo sempre ritornando in palermo comunque sono stato a new york una cosa spettacolare devo ringraziare tutte le amiche dell'america va bene allora Masino è soddisfatto contentissimo quindi adesso possiamo ritornare alla base poi alla fine darò le mie chiuderò il video a modo mio come faccio sempre ok rientriamo alla base io lo amo lo adoro Masino Zumo lo adoro va in giro per la città ovviamente quando dopo il lavoro perché lavora come hobby va in giro per la città a far conoscere il folklore di palermo e va dappertutto viaggia in tutta la sicilia vai è stato anche in america l'avete sentito prima mi sa che deve andare anche da qualche altra parte e se contento lui del pedal sprint signore è un giocattolo uno lo vede piccolino pensa che sia un giocattolo però è straordinario lo staff è eccezionale sempre disponibili io non ho parole ne ho montati tanti e credo che ne monterò ancora di più va bene allora tiriamo le somme il pedal sprint è collegabile fino a 5 cellulari mettiamo a un caso che in famiglia siete 5 ognuno ha il suo tipo di guida ognuno se la personalizza come vuole opzionali ci sono il pedal block la gestione con android e lo smartwatch la garanzia da 3 si può estendere a 5 anni ed è uno strumento straordinario che a parere mia tutte le macchine ne devono avere soprattutto come questa MG macchina bella ok bella lo ammetto ma sono pigre soprattutto quelli aspirati ma da adesso il nostro masino zoom si divertirà sicuramente con questo nuovo giocattolino pedal sprint una garanzia ok il video si si svolge al termine se vi è piaciuto mettete un like vi invito a scrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e spunta dalla campanellina per non perdere i prossimi video non aggiungo altro per la sprint number one e il nostro corso gratuito www.mesmerism.info